Benvenuti a tutti i ragazzi, ai loro docenti e a tutti coloro i quali hanno deciso insieme a noi di voler celebrare questa seconda giornata italiana della Statistica. E quindi dovremmo in realtà ringraziare tutti coloro i quali sono impegnati in questi giorni, vi citerò successivamente, negli eventi che questa comunità di statistici, amici della Statistica e anche statistici in erba, giovani, non so se sono... ma tu glielo augureresti di diventare tutti statistici. Allora dovete sapere ragazzi che secondo una persona molto importante che il capo degli economisti, cioè quelli che hanno studiato economia, quelli che fanno ricerche di Google, chi è che usa Google tra di voi? Eccoli qua. Va bene? Allora il vostro capo, diciamo così, il capo economista di Google ha detto tempo fa che il lavoro dello statistico in questo secolo è il lavoro più importante, veramente lui ha detto il più sexy, ma insomma diciamo il più importante di tutti. Adesso cercheremo anche di capire perché. Quindi dicevo grazie a tutti voi che siete intervenuti oggi, che avete lavorato per questa giornata, grazie naturalmente alla società italiana di statistica con la quale abbiamo avviato l'anno scorso queste giornate italiane della statistica al presidente attuale, il professor Torelli e il past president professor Vichi che all'epoca appunto era presidente della società italiana di statistica e che adesso invece presiede la federazione europea delle società nazionali di statistica. Come c'era venuta in mente questa idea di fare la giornata italiana della statistica? Perché due anni fa, per la prima volta, le Nazioni Unite hanno celebrato la giornata mondiale della statistica. E allora, in giro in tutto, per tutto il mondo, sono stati organizzati degli eventi e poi, visto il successo dell'evento italiano, ci siamo detti. E perché dobbiamo celebrare una volta ogni cinque anni o ogni dieci anni quando l'ONU deciderà? Perché non facciamo qualcosa stabilmente anche per l'Italia? E quindi abbiamo avviato questa iniziativa. Iniziativa che l'anno scorso ha avuto vari successi, molto successo, e che quest'anno, mi sembra, sia destinata ad avere ancora più grande successo. Cosa celebriamo oggi? Celebriamo una tecnica, una tecnica attraverso cui l'Istat e tanti altri tirano fuori continuamente numeri, al punto tale che qualcuno parla del diluvio dei numeri. Il diluvio di questi numeri che ogni giorno ci arrivano dai giornali, dalle radio, da internet. Cioè, celebriamo una cosa come la matematica? Oppure celebriamo i numeri? Vedete questo bellissimo poster che è stato disegnato apposta per questa seconda giornata della statistica, dove ci sono dei numeri che girano, sei più quattro, due, come direbbe qualcuno numeri che fanno girare la testa, come dice qualche comico. Oppure festeggiamo le persone che dietro a quei numeri, dietro ai 300 e passa comunicati stampa che l'Istat diffonde ogni giorno, lavorano quotidianamente. Oppure festeggiamo quelli che invece studiano nei centri di ricerca, all'università, come si fanno a generare quei numeri e quali errori si possono commettere. Oppure festeggiamo quelli che invece usano i numeri. Questo breve elenco di potenziali soggetti da festeggiare forse vi fa capire quanto la statistica riguarda tutti noi. Riguarda tutti noi come studiosi, ma anche come cittadini, ma anche come coloro che vogliono capire il mondo in cui vivono. Allora io sarei curioso, dopo ve lo chiedo quando vi chiamo sul palco per le premiazioni, capire, soprattutto per i ragazzi, oltre che per i loro docenti, cosa li ha motivati a dedicare del tempo a questo tema. Perché vedete la statistica è una cosa complessa, ma il mondo che la statistica descrive è ancora più complicato. Ed è per questo che abbiamo bisogno di fare le cose per bene, farle in modo accurato, ma anche farle in modo professionale. Io questa mattina alle otto e mezza ero in Parlamento a fare una di quelle che si chiamano audizioni, cioè i parlamentari che devono prendere delle decisioni che riguardano la vita di tutti noi, che ascoltano una serie di esperti. E abbiamo cominciato stamattina proprio noi. E cosa gli abbiamo raccontato a questi parlamentari? Beh, che se vogliono aumentare le tasse o diminuire le tasse, se vogliono spegnere le luci nelle strade perché così si risparmia energia, se vogliono cambiare il finanziamento dei trasporti pubblici locali che riguardano la vita ai tanti, beh, allora devono fare i conti con la statistica. E allora gli abbiamo presentato delle alternative, gli abbiamo detto, beh, se fate così probabilmente succederà questo, se invece fate così probabilmente succederà quest'altro. Oppure abbiamo detto che in Italia ci sono tanti cittadini che hanno paura di uscire la sera per strada perché pensano che la loro zona dove abitano non è abbastanza illuminata. E allora certo dobbiamo risparmiare soldi se li stiamo buttando, ma forse dobbiamo anche ripensare a illuminare delle strade che invece sono buie e così a migliorare la vita delle persone. Vedete quanto la statistica può spaziare dalla finanza alla vita quotidiana dei cittadini. Ed è questo che celebriamo. Celebriamo cioè la speranza, ma anche la convinzione, che quello che facciamo ogni giorno serva a migliorare la vita delle persone. E serva soprattutto per voi ragazzi a capire quando sarete un po' più grandi e dovrete decidere voi cosa fare a prendere le decisioni giuste. Qualcuno mi dice perché usa Google? Perché cosa usa Google? Per fare le ricerche, eh? Eh, per fare le ricerche. È più semplice usare Google o è più semplice guardare ai libri? Ma come fate a essere sicuri che quello che c'è scritto su Google sia vero? Come fate? Come? Eh, lo dicono le persone che lo sanno. Perché le copiano sui libri. Ma qualcuno... Dimmi. Non ho capito. Per una serie di statistiche. Vedete, io non so se giocate ancora, ma ci giocate mai al telefono senza fili? Sì. Qualcuno ci gioca. Allora, vi è mai capitato che il primo aveva detto una parola e voi che eravate in fondo alla catena avete trovato che invece la parola che vi era stata detta da quello prima era tutta diversa? Google funziona così, eh? Perché può essere che qualcuno si sbaglia a scrivere le cose oppure qualcuno intenzionalmente cambia quello che c'è scritto. Pensate a Wikipedia. Voi usate Wikipedia, naturalmente. Sì. Allora, come si fa a essere sicuri che quei dati siano giusti, veri? Non potete affidarvi soltanto a chi controlla. Dovete avere un po' di capacità per scoprire i trucchi. E le statistiche funzionano così. Perché ci sono tanti numeri che vengono pubblicati ogni giorno. Alcuni sono solidi. Naturalmente quelli dell'Istat sono assolutamente perfetti per definizione. però ci sono tanti altri che non seguono necessariamente sempre le regole professionali. E tirano fuori i numeri. E i giornali amano i numeri strani. E allora raccontano storie che talvolta non sono vere. ecco perché voi come cittadini del futuro avrete un vantaggio rispetto agli altri vostri compagni perché avete fatto il lavoro che avete fatto e magari avete cominciato a scoprire che non solo può essere divertente ma che può essere utile. questo noi oggi celebriamo la conoscenza statistica che può aiutare a vivere meglio. Concludo questa mia breve introduzione dicendo che proprio in questi giorni e in questi giorni questa celebrazione esce da questa stanza o dalle stanze dell'Istat e raggiunge tante altre persone. Io vorrei prima di dare la parola al professor Torelli per questo saluto ricordare le iniziative che ufficialmente sono state organizzate sotto questa dizione della giornata italiana di statistica. Per esempio a Potenza si discute delle amministrazioni pubbliche e dei censimenti a Firenze si celebra la giornata italiana della statistica parlando di censimento ma anche di popolazione di lavoro sempre a Firenze si parla ancora di censimento e delle nuove tecniche per utilizzare queste informazioni a Pontedera c'è un incontro con le scuole superiori della provincia di Pisa a Trieste c'è un incontro sulla statistica e il territorio a Passo Corese c'è un incontro in cui si parla come conoscere e come conoscerti l'indagine statistica a Napoli si parla della statistica della Campania e dei partner in questa iniziativa a Milano la statistica incontra agli studenti a Rimini si incontrano per discutere di che cosa serve la statistica e del calcolo della probabilità all'Università della Calabria c'è un incontro sulla statistica e la pubblica amministrazione a Genova ci sono due incontri uno con le scuole e l'altro sul sistema statistico regionale insomma tante regioni oggi celebrano insieme a noi questa giornata ed è importante e qui concludo che queste iniziative non restino sole non restino isolate e proprio per questo la società italiana di statistica l'Istat e altri soggetti ivi compresi quelli che hanno sponsorizzato e le ricorderemo tra poco iniziative di oggi ma anche altre iniziative sostengano questo sforzo questo sforzo di fare attraverso la statistica migliori i cittadini di oggi e di domani questo è il nostro impegno vi ringraziamo per l'aiuto che ci date e ricordate quanti di voi stanno su facebook alzano la mano siete ancora pochi piccoli e invece tra i grandi quanti stanno su facebook eh va bene tutti bene allora ricordatevi alla fine di questo incontro magari di raccontare ai vostri amici centinaia immagino le vostre sensazioni sulla giornata e quindi se saremo stati bravi avremo un buon feedback se saremo stati male cattivi peggio per noi mi piace grazie mille e a questo punto apriamo la giornata dando la parola appunto al professor Nicola Torelli presidente della società italiana di statistica grazie a tutti voi grazie a tutti